purtroppo il calcio così e dico la verità godo godo penso mi possiate credere tranquillamente sotto questo punto di vista e non c'è niente da fare a maggior ragione quando poi sai comunque vai a vincere a Danfield che non è semplicissimo pare che tutto stia andando nella direzione giusta per cercare in un qualche modo di farti passare con Liverpool che prende tre legni Vidal che al novantesimo salvo un pallone insalvabile un euro goal di Lautaro che mi pare sia il primo di questa edizione della Champions League doveva fare un gol capolavoro che dici Dio bo sta a vedere ne han prese due a San Siro però sta a vedere che tutto va dalla loro parte a Danfield che dici cazzo a Danfield vedevi interisti che pregavano per non andare lì per non tornare a casa col pallottoliere quindi senza sombra di dubbio godo a maggior ragione con Sanchez che 20 secondi dopo l'1-0 va a prendere il secondo giallo e da un certo punto di vista anche Bonagrazia che si è arrivato al secondo giallo vedendo il tenore del primo per quell'entrata su chi è che era Alcantara allo stesso tempo però c'è da ammettere una cosa io godo continuare a godere e sarà sempre un'arma da sfottò questa uscita come lo era per loro appunto quando te perdevi le finali di Champions League e loro perdevano contro il Birsheva quelle squadre là insomma no però c'è da dire che questa qui è davvero questa è davvero la classica uscita a testa alta cazzo magari vedendo il tenore delle nostre uscite negli ultimi anni uscissimo anche noi così con prestazioni del genere contro squadre soprattutto poi come il Liverpool non come il Lione il Porto e tutta questa roba qui che siamo purtroppo ormai abituati onestamente per quanto si possa godere secondo me si devono riconoscere i meriti dell'Inter che già l'andata probabilmente era stato stretto lo 0 a 0 già penso sia buono anche il fatto di non aver reso il Liverpool il Liverpool che conosciamo tutti quanti per 180 minuti che tra andate e ritorno non è che abbia fatto due partite da Liverpool che dici questi tagnentano facile oggi c'è c'è da dirlo effettivamente ne potevano far davvero tre quattro anche abbastanza agili solo che nel momento in cui di fatto poi non la butti dentro c'è anche poco da ricriminare la sfortuna la bravura magari di Vidal però Tanemodi non è entrata e ci devi fare una ragione ma appunto onestamente magari uscire anche noi con due prestazioni così contro una delle squadre più forti d'Europa come il Liverpool c'è niente da fare forse anche questo no che fa godere di più i rivali come potrebbe essere il sottoscritto che dici cazzo eh l'hai profumata l'hai annusata lì fino all'ultimo e alla fine della fiera niente stesso reso conto di una sconfitta da pallotuliere anzi forse uscire con una vittoria ad Anfield per uno che ti gufa è proprio l'apice però dico la verità onestamente sì per quanto io sperassi in cuor mio in un 4 5 a 0 quando ho visto la partita mettersi in un certo modo proprio a livello di spettacolo e di sapore che aveva il match dicevi oh cazzo qui si fa interessante solo che poi ci ha pensato Sanchez c'è il cazzo da fare ma purtroppo anche lo stesso discorso delle altre volte ho visto l'Inter che a una certa come avrete visto tutti ovviamente è andata a mettere Gagliardini Vescino Darmian quegli altri ti andavano a mettere della gente da 40 50 60 milioni dei fenomeni e lì capisci che il livello è quello che è e quindi è per questo che con nonostante tutto il godimento c'è un grande riconoscimento e merito da dare all'Inter per aver fatto secondo me proprio nel complesso 180 minuti invidiabili a maggior ragione vedendo quella che era l'avversaria e soprattutto il valore dell'avversario penso ci sia ben poco da dire è un'altra cosa innegabile che mi fa sperare in qualche modo per il futuro e che comunque una partita come quella di oggi ti toglie di quelli di quelle energie che sono spaventose fisiche perché bene o male quando giochi contro squadre come il Liverpool devi fare una partita a livello atletico che è fuori di testa cioè se tipo domani bastoni e perisic si alzano dal letto c'è da gridare al miracolo per il tipo di prestazione che hanno fatto e per la corsa e l'intensità che ci hanno messo come tutti gli altri anche solo che tipo uno come perisic era non so io faccio una roba del genere mi rialzo fra un mese e mezzo che sta a correre io come ha fatto perisic per 90 passaminuti con un'intensità un ritmo un avanti indietro a velocità stratosferiche però quello che volevo dire io è che appunto considerando che questi match ti tolgono a livello fisico ma soprattutto mentale poi a maggior ragione dopo una partita e un risultato come quello di oggi insomma andare tre quattro giorni dopo a giocare a Torino contro Iuric non è che sia proprio semplicissimo quindi anche questa no un'altra cosa che magari ti fa sperare anche se poi di fatto io devo sperare in poco anche se c'è da dire che se la Juventus dovesse fare il suo nelle prossime due di campionato roba che rischia di arrivare in caso di vittoria anche del derby d'Italia quindi si sta immaginando forse fin troppo di essere appaiata all'Inter con una partita in più perché che cos'è che ho letto la prima data disponibile per Bologna Inter è il 27 d'aprile ad un mese scarso dalla fine del campionato tra l'altro quindi c'è comunque da vedere anche quello che sarà il futuro dell'Inter soprattutto nell'immediato in particolar modo contro il Toro poi dopo inizierà ad avere una partita settimana ad esclusione del ritorno di semifinale di Coppa Italia quindi è un altro discorso però in sostanza sì tutto questo per dire che godo godo ma c'è da dire davvero che tan fatto dei 180 minuti cazzo che se io li vedessi in una partita della Juventus in Champions League probabilmente mi metterei a piangere non che la Juventus non l'abbia mai fatto ma ormai penso siano davvero un ricordo del passato ma passato che rischia di diventare anche remoto delle partite del genere perché cazzo questo sì che uscire a testa alta qui nonostante tutti i vari godimenti vanno fatti dei grossi complimenti scusate il gioco di parole all'Inter onestamente va riconosciuto va bene lo sfottò essere felici divertirsi godere però comunque bisogna anche sempre avere quel barlume di lucidità che ti faccia dire che cazzo magari facessimo noi delle prestazioni del genere in Champions League sarebbero davvero un sogno sarebbero davvero un sogno però purtroppo di mi accontento anche di passare intanto col via realio e poi ci penseremo al futuro poi dopo ci penseremo anche perché vedendo le squadre che rischiano di rimanere potrebbero essere davvero serie concreti cassi ma vabbè è un altro discorso questo video fortunatamente non è focalizzato su una partita di Champions League della Juventus e quindi puoi stare un pochino più sereno anche perché tra una settimana presumibilmente il sottoscritto rischia di essere abbastanza disperato ma di sto giro non tocca a me tocca ad altri e va accettato io vi mando un grosso abbraccio esatto per cambiare fino alla fine forza Juve Grazie a tutti